La libreria dei podcast della Corte Costituzionale Grazie, grazie molte per questo invito, sono onorata e molto felice di essere qua. Il Presidente Amato ha introdotto questo dialogo ricordando che non c'è gerarchia ma ripartizione di competenza fra i due ordinamenti, l'è stato anche ripreso il nostro Presidente da Macek Spunner. In effetti la Corte Costituzionale lo ha detto già nel 1973 con la sentenza Frontini, è uno dei grandi pilastri della giurisprudenza italiana. Ciò nonostante visto dall'esterno può sembrare che la Corte di Giustizia stia sempre più espropriando le competenze degli Stati membri, ma la competenza della Corte si espande perché si espande la legislazione. A ogni nuovo direttiva, a ogni nuovo regolamento, a ogni nuova revisione dei trattati si espande il diritto materiale dell'Unione e la competenza della Corte si espande di conseguenza. Ma quello che la Corte cerca in realtà di fare, oltre a esercitare i compiti che le sono conferiti dal trattato, è di tenere insieme il sistema per evitare che si frammenti in tanti sottosistemi discordanti in cui in definitiva nessuno rispetta veramente le regole comuni. Il mio intervento, sfrondando tutto quello che è già stato detto nelle eccellenti relazioni che mi hanno preceduto, cercherà di rispondere alla seguente domanda. È possibile in che modo, dalla prospettiva del diritto dell'Unione europea, conciliare l'esigenza di tutelare primate e uniforme applicazione del diritto dell'Unione con quella di garantire il sistema margini di flessibilità per rispettare i valori essenziali che sono propri del sistema costituzionale di ciascuno Stato membro? Vorrei brevissimamente ricordare che sino dalle sue origini comunitarie è vero che l'ordinamento dell'Unione si basa su una serie di regole uguali per tutti gli Stati membri e che inizialmente soprattutto i trattati non prevedevano che un numero limitatissimo e tassativo di eccezione ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica. Tuttavia, sin dagli anni 70, la Corte di Giustizia ha introdotto importanti principi per garantire una maggiore flessibilità al sistema e permettere all'ordinamento dell'Unione di aprirsi ai valori fondamentali degli Stati membri. Possiamo ricordare due esempi, da un lato la giurisprudenza degli inizi degli anni 70 sui diritti fondamentali e dall'altro quella della fine del stesso decennio sulle esigenze imperative. Quanto ai diritti fondamentali, come è noto, la Corte li ha introdotti come principi generali di diritto nel silenzio dei trattati, perché è vero che oggi l'articolo 6 e prima ancora l'articolo F introdussero questo limite, ma era la Corte che li aveva sin dal 1970 introdotti come criteri di interpretazione e parametri di validità e di legalità del diritto dell'Unione. Con quella giurisprudenza la Corte di Giustizia introduceva anche un concetto che allora era del tutto nuovo, quello di tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. È stata la Corte che ha inventato, elaborato questo concetto, non estrapolandolo mediante un esercizio di diritto comparato e nemmeno esprimendo un minimo comune denominatore fra le costituzioni degli Stati membri, ma elaborandolo come una nozione autonoma propria del diritto dell'Unione, quindi un limite in realtà interno all'ordinamento. Perché quando parliamo di tradizioni costituzionali comuni è alla fine la Corte di Giustizia che deve accertare questo carattere, valutare carattere comune, quindi una singola Corte non necessariamente costituzionale può sollevare una questione di questo tipo, ma che cos'è una tradizione costituzionale comune? È un concetto che viene fatto proprio, interiorizzato dall'ordinamento e ancora oggi l'articolo 6 del Trattato sull'Unione dice che le tradizioni costituzionali comuni sono principi generali di diritto dell'Unione. Quanto alle esigenze imperative con la sentenza Cassis de Dijon a partire da quella sentenza, la Corte ha introdusso un nuovo limite al diritto dell'Unione, cioè la possibilità di derogare alle regole del mercato in nome di esigenze, che è in nome di valori degni di tutela a livello generale o motivi imperativi di interesse generale, così qualificati da poter essere elevati ad eccezioni alle regole comuni. Ad esempio la Corte ha ritenuto tale la protezione del patrimonio culturale, la tutela dei consumatori, quella dei lavoratori, il pluralismo dell'informazione, la salvaguardia del bilancio nazionale. E a partire dalla stessa sentenza Cassis, la Corte ha anche introdotto il metodo che utilizza tuttora per valutare il rapporto eccezione ed eroga, cioè quel test di proporzionalità di cui ha parlato anche il nostro Presidente. Obiettivi e poi prima analisi degli obiettivi e poi i tre step del giudizio di proporzionalità. Ed è interessante notare che prima dell'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali, gli Stati membri hanno invocato con successo come esigenze imperative anche valori costituzionali, spense ai casi Schmidberg e Omega, in cui le libertà del mercato si confrontavano rispettivamente con la libertà di espressione e di riunione e con la dignità umana. Dunque, sin dagli anni Settante la Corte aveva già interiorizzato alcuni valori essenziali e poi questi valori sono stati codificati successivamente dai trattati, integrando sia i diritti fondamentali sia le esigenze imperative che ora sono prescritte dal titolo secondo del Trattato sul funzionamento come disposizioni trasversali di cui tutte le politiche dell'Unione devono tenere conto. È stata un'espansione di competenze della Corte? No, in realtà questa giurisprudenza ha posto dei limiti al diritto dell'Unione e alle competenze stesse. Ora, perché ho detto questo? Perché secondo me ci aiuta a capire questa evoluzione e dare un giusto inquadramento a quello che è la riforma del Trattato di Lisbona, perché con questa riforma il sistema valoriale dell'Unione ha assunto una forma articolata. È incentrato da un lato per quello che riguarda valori e diritti sui articoli 2 e 6 e sulla Carta, mentre per ciò che riguarda i principi che regolano relazioni tra ordinamenti e che potremmo definire strutturali, sull'articolo 4 del Trattato. Vorrei brevemente esaminare le relazioni tra questi valori, diritti e principi e la loro connessione con l'identità costituzionale degli Stati membri. L'articolo 2, già stato detto, esprime i valori fondativi dell'Unione e, alla luce dell'articolo 47, la condizione stessa della membership. Quindi noi possiamo definire questo articolo 2 come la Grund Norm del sistema complesso formato dagli ordinamenti dell'Unione europea e degli Stati membri. E in ultima analisi il concetto di identità europea condivisa si appoggia e si radica su questo articolo 2. Gli articoli 2 e 6 e la Carta rappresentano per quello che riguarda i diritti fondamentali il fulcro dell'identità valoriale comune. A questa identità contribuisce anche la dimensione delle tradizioni costituzionali comuni cui fa riferimento l'articolo 6. L'articolo 6 conferisce al sistema di protezione dei diritti fondamentali un nuovo spessore perché attribuisce pieno valore giuridico alla Carta, ma è l'articolo 2 che innalza il rango dei diritti fondamentali a valori essenziali dell'ordinamento nel suo insieme. La Carta è un limite, un parametro di validità, di legittimità, oltre che un criterio di interpretazione per il diritto dell'Unione e quindi limitando l'azione dell'Unione tutela anche indirettamente nei confronti degli atti dell'Unione i diritti fondamentali contenuti nelle Costituzioni degli Stati membri. La Carta non sta in piedi da sola, essa infatti può applicarsi solo a una fattispecie che ricade nell'ambito di applicazione di un'altra disposizione del trattato e questa è la ragione per cui l'interpretazione dell'una si accompagna a quella dell'altra ed entrambe ricadono nella competenza esclusiva della Corte di Giustizia, la quale ai sensi del 52-4 della Carta interpreta in armonia la Carta stessa con le tradizioni costituzionali comuni in quanto principi generali di diritto dell'Unione. È vero, è stato detto, che le disposizioni delle Costituzioni nazionali di per sé non giustificano un'aderoga al diritto dell'Unione, ma questo va visto non in termini gerarchici perché l'articolo 53 della Carta sottolinea che le disposizioni della Carta non possono essere interpretate come lesive di diritto e libertà riconosciuti dalla Costituzione degli Stati membri nel rispettivo ambito di applicazione e quindi distinguendo i rispettivi campi di applicazione questa disposizione mira a escludere qualunque gerarchia. Allora, come ci si regola nella interpretazione della Carta? Certo, nell'attuazione della Carta a parte degli Stati membri, sia le Corte Costituzionali che la Corte di Giustizia possono essere entrambe chiamate a valutarli, donetta di tali norme a proteggere i diritti fondamentali alla luce rispettivamente della Carta o della Costituzione. Ma le Corte Costituzionali possono giocare un ruolo importante per assicurare l'efficacia della Carta sotto due profili. In primo luogo, come è stato anche ribadito da Eurobox recentemente, la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su tutto quello che è armonizzato, sul tipo di armonizzazione. Ma quando un atto dell'Unione non crea un'armonizzazione di una determinata fattispecie, lì ci sono margini appunto per, ai sensi dell'articolo 51, lasciare alle Corte Costituzionali un ruolo nell'interpretare la Carta. Certo, se, come è successo in Melloni, l'atto dell'Unione effettua un'armonizzazione completa, gli standard di protezione dei diritti fondamentali si ritiene siamo fissati dello stesso atto la cui interpretazione o la cui dichiarazione di invalidità spetta esclusivamente alla Corte di Giustizia. In caso, fortunatamente non frequente, si crei un conflitto tra standard dell'Unione con le norme costituzionali, il confronto diretto fra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia, mediando un rivio pregiudiziale, è particolarmente utile. Permette alla Corte di Giustizia di valutare meglio, come è successo appunto in Massa MB, la portata di tali questioni e, d'altra parte, può anche aiutare i valori nazionali a essere elevati, a divenire un moltiplicatore, a essere elevati a valori dell'Unione. In secondo luogo, come avveniva nella sentenza Associación de Mediación Sociale, vi sono molte norme della Carta dei Diritti che inviano legislazioni e pratiche nazionali, sottoponendo dunque l'attuazione del diritto europeo nelle relative materie allo standard nazionale che dovrà essere conforme alla Costituzione di quello Stato. Quindi questi sono gli articoli 2 e 6, veniamo al 4. Il 4, molto è già stato detto, raggruppa i principi, a mio avviso, strutturali delle relazioni fra Stati membri e Unione Europea. Paragrafo 1, attribuzione, 2, uguaglianza e rispetto a identità nazionale e 3, il principio bidirezionale di leale cooperazione. Ora, per comprendere la portata di questo articolo, della clausola che chiamiamola così identitaria, occorre inquadrarla da un lato nella sua collocazione sistematica all'interno dell'articolo 4 e dall'altro alla luce degli articoli 2 e 6. Per quello che riguarda il coordinamento interno, i principi che il 4.2 afferma sono pariordinati alla clausola e in generale tutti i principi dell'articolo 4 sono pariordinati alla clausola identitaria. Quindi la sintesi dell'articolo 4 qual è? È che nell'invocare la clausola identitaria gli Stati devono innanzitutto rispettare il principio di attribuzione e tutti i suoi corollari, come ad esempio quello della preemption nelle materie di competenza esclusiva. Inoltre il rispetto dell'identità nazionale va contemperato col principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e infine con il principio di leale coordinazione. Oltre a questo coordinamento interno interessante, a mio avviso, operare un coordinamento tra l'articolo 4, 4.2 in particolare l'identità nazionale e gli articoli 2 e 6. È già stato detto e lo ripeto anch'io ostante il valore di Grundnorm dell'articolo 2, la clausola identitaria non può validamente essere invocata per giustificare violazioni dei valori fondativi espressi dall'articolo 2. Inoltre una lettura sistematica induce a dubitare che la clausola identitaria dell'articolo 4.2 si sovrapponga all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato, comprendendo anch'essa le norme di protezione dei diritti fondamentali previsti dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri. In effetti la formulazione del 4.2, cui i principi sono richiamati dal 2, sembra fare riferimento non tanto a un'identità valoriale in senso stretto, quanto soprattutto all'identità strutturale e territoriale. Infatti né la struttura fondamentale politica e costituzionale, né le funzioni essenziali, questi sono i termini dell'articolo 4.2 dello Stato, sembrano riferirsi ai diritti fondamentali. Anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia precedente al Trattato di Lisbona, che si era pronunciata su questioni di identità nazionale, invocate dagli Stati membri, come per esempio la protezione della lingua, divieto di usare titoli innobiliari, in nessun caso tale identità era invocata a protezione dei diritti individuali. Al contrario, in taluni casi il principio era inviocato dagli Stati proprio per giustificare una deroga alla norma europea che fissava uno standard di tutela dei diritti più elevato di quello garantito a livello nazionale, ponendosi in conflitto con altri principi ritenuti fondamentali per l'ordinamento statale. In effetti l'articolo 4.2 e l'articolo 6 esprimono valori diversi e non si può escludere che in taluni casi questi entrino in conflitto tra loro e che vada operato un bilanciamento. Un esempio recente si trova nella sentenza BK del luglio 2021 relativa all'orario di lavoro nelle forze armate. La Corte ha dovuto bilanciare da un lato la sicurezza nazionale, affermando che resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato su un membro ai sensi dell'articolo 4.2 e dall'altra i diritti del lavoratore. La Corte di Giustizia ha fatto un'analisi molto attenta di quelle che erano le peculiarità dell'ordinamento nazionale, perché appunto, come è già stato detto prima di me, l'identità nazionale va valutata in base a quell'ordinamento. Quindi alla fine la Corte di Giustizia ha dato alcuni principi al giudice di rinvio, era un giudice sloveno e però ha lasciato in ultima analisi il compito di determinare se l'attività di guardia svolta da BK fosse effettivamente legata allo svolgimento di funzioni essenziali per la sicurezza, a un'appurazione militare propriamente detta, oppure no, perché solo in caso contrario tale attività poteva essere considerata oggetto di applicazione della direttiva e quindi in quel caso i diritti del lavoratore avrebbero dovuto prevalere sull'esigenza di sicurezza nazionale. Anche la sentenza Boris Cilevich che sarà pronunciata il 7 settembre prossimo, l'identità nazionale che veniva invocata sotto il profilo della lingua e della diversità culturale e la Corte di Giustizia ha dovuto effettuare un bilanciamento fra articolo 2 da un lato e articoli 15 e 16 della carta dall'altro. Perché dico queste cose? Perché questo conferma secondo me quello che ha detto la Corte Costituzionale tedesca nell'ordinanza OMT, in cui ha detto il concetto di identità nazionale di cui l'articolo 4.2 non coincide esattamente col concetto più ampio di identità decostituzionali e in effetti è vero perché il 4.2 se questa ricostruzione sistematica è corretta non copre di per sé i diritti fondamentali e d'altra parte in effetti il bilanciamento che abbiamo visto dell'articolo 4.2 è anche più severo di quello che viene fatto per i diritti fondamentali perché i diritti fondamentali fanno comunque parte dell'identità valoriale, sono richiamati dalla Grundnorm. Quindi in effetti c'è un'importante parte dell'identità costituzionale degli Stati membri che non è riferibile al 4.2 ma piuttosto attraverso i meccanismi dell'articolo 6, della carta e diciamo ai diritti fondamentali. Quindi quella dottrina straniera che aveva individuato l'articolo 4.2 come una sorta di porta spalancata per tutti i possibili controlimiti nazionali non può essere diciamo confermata dalla Corte di Giustizia e penso nemmeno da quello che ho sentito che questo sia il sentire delle corti italiane. In conclusione come si è visto in questo sistema complesso formato da ordinamento dell'Unione e dagli Stati membri gli strumenti di flessibilità non mancano. Dunque alla domanda che ci siamo posti inizialmente se esiste la possibilità di derogare alle regole dell'Unione per tutelare valori fondamentali dell'ordinamento nazionale la risposta è in principio sì ma le deroghe non possono essere gestite in maniera unilaterale dagli Stati membri e dalle loro corti. Questo è appunto quello che si può desumere dalla sentenza RS che è stata già citata sull'articolo 2 la quale indica anche il metodo con cui far valere la clausola identitaria, un metodo che comporta una procedura in due fasi, una nazionale e una europea. In quella nazionale spetta alle corti nazionali individuare gli elementi essenziali della propria identità costituzionale e qui è interessante fare un paragone con la giurisprudenza antica della corte sulle tradizioni costituzionali comuni perché quando la corte diceva che esigenze imperative, tradizioni costituzionali comuni sono concetti propri e autonomi del diritto dell'Unione, in pratica si riservava anche l'ultima parola sulla loro definizione ma questo per l'identità nazionale oggi non avviene e anche potremmo dire che questo trascinerà probabilmente anche il concetto di tradizioni costituzionali comuni perché la corte deve riconoscere, la corte giustizia, le peculiarità di ciascun ordinamento. Quindi questo influisce anche sul giudizio di proporzionalità probabilmente per quello che riguarda il primo step che è l'obiettivo, la giustificazione degli obiettivi perché in effetti c'è un forte elemento l'articolo 4.2 o l'articolo 6 che milita a favore della giustificazione degli obiettivi. Questa è la differenza, questa è l'evoluzione rispetto all'antica giurisprudenza della corte scritta peraltro nel silenzio dei trattati sulle tradizioni costituzionali comuni e sui diritti fondamentali come diciamo parte del sistema e gelosamente e unicamente gestiti dalla corte stessa. Però in definitiva appartiene sempre, e questo è il secondo passaggio della procedura, apparterà alla corte di giustizia di decidere se le eccezioni nazionali possono derogare le regole comuni effettuando il test di proporzionalità appunto. Ovviamente un test delicato, un test che tiene conto di quella che sono gli articoli 4.2 e i valori da esso espresso. Ultimissima osservazione, chi può sollevare una questione di identità nazionale? Naturalmente tutti i giudici di ogni ordine possono invocare eccezioni identitarie e l'hanno fatto, però in caso esista un reale conflitto fra norme dell'unione e valori costituzionali, diritti fondamentali o elementi di identità strutturale, se le corti costituzionali sono loro a riviare alla corte danno alla corte giustizia la possibilità di pronunciarsi e si previene così anche la tentazione di ricorrere unilateralmente ai controlimiti. Il rapporto fra le corti non può e non deve essere risolto a colpi da una parte di primato e dall'altra di controlimiti, ma deve concretarsi in un dialogo costruttivo basato sulla leale cooperazione. Solo il dialogo può portare a un osmosi valoriale, all'incorporazione di valori costituzionali degli stati membri dell'ordinamento giuridico dell'Unione, solo il dialogo fra le corti in definitiva può creare una armonia costituzionale europea. Il sistema dell'Unione ha aumentato la sua sfera di competenza, ma anche ha subito una progressiva evoluzione in senso costituzionale, aggiungendo all'integrazione dei mercati quella dei diritti e la sfida che l'Unione ora deve affrontare è quella di essere realmente una comunità di valori, in cui i conflitti si regolano con il dialogo e con un attento bilanciamento. La corte costituzionale italiana, che appartiene a uno Stato fondatore, è da sempre protagonista di primo piano in questo dialogo e in un momento in cui altre corti di altri stati membri mettono in discussione lo Stato di diritto e indipendenza dei giudici e il primato, vale a dire le fondamenta stesse dell'ordinamento dell'Unione, la corte costituzionale italiana ha affrontato questo dialogo in maniera leale e costruttiva e come ha detto anche il primo avvocato generale Spooner, con la recente sentenza 67, sicuramente in grado di insegnare metodi e principi da altre corti costituzionali. Voglio dire, visto che c'è il Presidente Curzo, che io vedo la sentenza 67 in realtà come un teamwork con la corte di Cassazione, perché le buone risposte si possono dare solo se ci sono buone domande e in effetti la Cassazione ha fatto molto bene a sollevare questa questione costituzionale, perché così ha dato anche alla corte costituzionale la possibilità di esprimersi. Quindi io leggo questa sentenza, certo assolutamente non come un rimprovero alla corte di Cassazione, ma anzi è la corte di Cassazione che ha dato il giusto input per elaborare la giusta teoria. Grazie. Grazie a tutti.